Pronti per il secondo collegamento di oggi, di questa puntata così ricca di notizie, di eventi nel sostizio d'estate, insomma per dare il via a quella che sarà la stagione più calda dell'anno in realtà. Stiamo vivendo già giorni infuocati per questo 2024, restiamo in Puglia e grazie a Graziano Cennamo, direttore artistico di Puglia Armonica, andiamo a parlare di feste patronali con tutto quello che concerne, in quello che è il periodo dell'anno nel quale maggiormente si concentrano. Buongiorno Graziano, ben trovato! Buongiorno a voi, ciao Toni! Sono felicissimo di averti con me stamattina perché come dicevamo le feste patronali sono un po' il sale dell'estate, in maniera particolare in Puglia ma in tutta Italia rappresentano un'eredità da tutelare, come ci insegni tu, che da memoria possono farsi rilancio per il futuro dei nostri territori. Sì, le feste patronali segnano appunto la stagione estiva, in maniera particolare durante l'estate esplode il rito collettivo dedicato alle celebrazioni dei patroni. Sono patrimonio immateriale da tutelare al pari di quello fisico. La cultura non passa solo dai monumenti, dalle chiese, dalle cattedrali, dai palazzi storici. La cultura forse è soprattutto legata al patrimonio immateriale perché è un patrimonio in continua evoluzione. racconta tanto di noi e racconta anche del futuro delle nostre comunità. Le immagini che stiamo vedendo mentre chiacchieriamo ci restituiscono plasticamente il coinvolgimento delle comunità appunto durante queste feste. è un coinvolgimento assolutamente trasversale tra la gente, i turisti, i devoti, i tanti artisti che arricchiscono questi momenti. Dalle luminarie alla musica suonata dal vivo. Vedevamo quella bella immagine della Cassa Armonica. Ecco, a questo proposito il 28 giugno ci sarà il Puglia Armonica Festival proprio per evidenziare ulteriormente quanto tu ci dicevi. Dove si terrà questo appuntamento e dici come facciamo per poter partecipare? Sì, il 28 appunto a Lecce presso Masseria Tagliatelle. È una location meravigliosa del comune, riaperta da pochissimo. Quindi ci immergiamo nel fascino di una masseria per celebrare appunto questo appuntamento annuale con le tradizioni. Sarà un vero e proprio raduno di comitati, amministrazioni comunali, proloco, confraternite, operatori del settore, aziende legate al mondo delle feste padronali. Questo è un appuntamento per parlare appunto delle feste, della loro importanza ma soprattutto del loro futuro. Infatti il tema di quest'anno sarà feste padronali di Puglia oltre l'estemporaneo con progettualità e programmazione appunto per guardare al futuro. Si articolerà in questo modo, alle 18.30 inizierà il talk padronale, l'abbiamo definito così proprio per il tema. Alle 20.30 ci sarà il premio Puglia Armonica, è un premio che conferiamo appunto a chi si distingue nel mondo delle feste padronali. E successivamente, dall'eventuno ci sarà una grande festa con ingresso gratuito aperta a tutti, a chi deciderà di restare dopo il convegno, a chi vorrà venire solo ed esclusivamente per divertirsi. Un evento con la banda musicale, le illuminari, i fuochi d'artificio, insomma ci sarà tanto da vedere, si può godere appunto appieno della tradizione popolare pugliese. Ecco, è una festa aperta a tutti e la festa che celebra le feste padronali. Ed è un'intuizione molto bella che ci richiama quel concetto di patrimonio immateriale, patrimonio culturale immateriale a cui facevi riferimento prima, quindi complimenti per l'intuizione. Io invito i nostri tanti telespettatori che ci seguono dal nord al sud Italia a seguire la pagina Puglia Armonica, la pagina Facebook Puglia Armonica, dove il prezioso lavoro di Graziano Cennamo si può seguire quotidianamente. Graziano, prima di salutarci, quali altri appuntamenti dobbiamo cercare di non perderci per quest'estate 2024? Sì, allora, bella domanda, perché non vorrei insomma dimenticare. Io neanche volevo metterti, neanche io volevo metterti in difficoltà, perdonami. No, figurati Tony, è una domanda difficile. Allora, facciamo così, le immagini che avete trasmesso riguardano la festa di San Giovanni Battista, patrono di Veglie, un comune della provincia di Lecce, dove in questi giorni appunto stiamo mettendo a puntino, in ordine, le ultime rifiniture legate alla festa. È una festa imminente, le immagini appunto sono quelle di San Giovanni, a Veglie, dove è Santo Patrono e sarà veramente una festa straordinaria. Vi consiglio di venire a vederla, di viverla, perché ne vale veramente la pena. Saranno tre giornate dense di appuntamenti, di devozione e di spettacolo puro. Dal 23 al 25 giugno a Veglie, la festa di San Giovanni. Bene, ce la siamo cavata così, grazie, grazie mille. Grazie mille. Grazie di cuore a voi. Grazie mille, grazie a voi, buona giornata. Grazie a te. La regia del resto è stata puntualissima nel proporci anche la locandina di questo evento, quella con lo sfondo giallo che appunto faceva riferimento alla festa di San Giovanni Battista, della quale ci parlava Graziano. Graziano, a te l'augurio di un buon lavoro, un prezioso lavoro che svolgi per le nostre comunità e arrivederci a presto. Grazie Tony, buon lavoro. A proposito di feste patronali, dall'altra parte dello studio, Leonardo Faniano, Graziano, se puoi non ci lasciare, perché dall'altra parte dello studio c'è il collega Leo Fania, che si occupa di notizie e di aggiornamenti, che mi chiede la linea. Sì, più che altro, più che la linea, volevo fare una domanda, perché il tema delle feste patronali è uno dei temi a me più cari, insomma. Volevo chiedere al tuo ospite, a Graziano, volevo fargli questa domanda che mi è venuta in mente ascoltando anche il suo intervento, perché nelle feste patronali è presente una fortissima componente di innovazione, non so se l'ospite concorda, che ovviamente fa il paio anche con tanta tradizione che c'è all'interno, nello specifico della nostra regione, ma più in generale della nostra Italia. Ecco, la domanda che io volevo fargli è come l'innovazione non deve, tra virgolette, passami il termine, disturbare la tradizione, perché pensiamo ai nostri anziani che magari sono abituati, non so, a vivere una festa in un determinato modo e poi un anno dopo se la ritrovano completamente stravolta. Mi hai fatto una domanda particolare, difficile, però insomma sono ben lieto di dire la mia su questo dedicatissimo argomento. Puglia Armonica è nata al fine di tutelare l'autenticità delle feste patronali, che non deve essere snaturata. La festa patronale non necessita di travolgimenti, l'innovazione durante le feste patronali si mette in atto rispettando innanzitutto la tradizione, quindi gli elementi fondamentali delle feste patronali, la banda, le luminali, i fuori d'artificio, la devozione. Rispettando questi elementi noi effettuiamo un'operazione di innovazione, paradossalmente. La festa patronale non necessita di stravolgimenti. Possiamo fare qualcosa nell'ultima giornata dei festeggiamenti, ma è impensabile stravolgere la tradizione. Oggi come oggi, tra l'altro con quello che sta accadendo nell'industria turistica e culturale, abbiamo capito che innovare significa soprattutto proteggere, conservare, esaltare le autenticità. E quindi quando un comitato, quando un'amministrazione comunale pensa di fare innovazione durante la festa patronale, eliminando la tradizione stessa, quella più che innovazione, a mio avviso, è distruzione. Quindi al bando la creatività, insomma, troppo estrosa, diciamo così. Io penso che la festa patronale è bella proprio perché ci ricorda le origini, le radici, non è un memoriale di ciò che è vecchio. È la continuità, il perpetuarsi del rito attraverso gli spettacoli tradizionali, attraverso la devozione, attraverso il rito, attraverso la banda. Noi per esempio durante gli spettacoli bandistici cerchiamo appunto durante le esibizioni della banda più che altro di modificare il repertorio, di fare qualcosa di più fresco, attinente ai nostri tempi o semplicemente di rivedere un po' qualcosa. Lo stesso vale per le luminarie, lo stesso vale per altri momenti di collettività durante queste patrani, ma è impensabile di eliminare gli ingredienti principali della festa patronale, anche perché gli eventi li viviamo ormai con quotidianità. Noi possiamo avere lo spettacolo del cantante famoso praticamente senza aspettare la festa del patrono, che quello è tutt'altro. Noi ormai siamo grazie al cielo bombardati da eventi, spettacoli, attività culturali, quindi non trovo veramente giustificazione in una trasformazione coatta delle feste patronali. Bene, grazie, hai dato tanto da riflettere, soprattutto anche a chi ovviamente si occupa di questa materia che è molto delicata, perché poi quando ci sono le feste patronali, gli schieramenti iniziano a infervorarsi. Sì, io condivido. Sì, e poi veramente vi lascio, per concludere, noi in questi anni abbiamo appunto valorizzato le feste senza distruggerle, abbiamo esaltato i tratti identitari, le autenticità e funziona, ve lo posso garantire. Noi ne siamo certi, Graziano, ti rinnovo gli auguri di buon lavoro per il periodo intenso che ti aspetta a partire dalla festività di San Giovanni Battista. Grazie. Grazie, buona.